salve da michele expert questo è un taglia erba della andei un day andei io sulle pronunce non sono afferrato sapete la marca più o meno a parte quello sono abbastanza commerciale questa parte l'ho comprata nuova perché sarà abbastanza rotta c'è sempre limite qua che c'è una cosa che scappa sempre vede qua giù c'era un qualcosa che fosse bloccava poi gira gira si svitano e se ne vanno c'è la seconda volta che capita questo sono stato costretto a comprare perché era un po spaccato si trovano intorno a 11 euro su ebay sono abbastanza sono tutte abbastanza simili tanto che qua ho trovato poi un problemino che c'era diciamo la parte finale che era più grossa ne ho dovuto limarla anche dopo averla limata si è rotta tendenzialmente hanno questo limite sempre che si rompono si staccano chiamiamo le capocchie che non è così cosa ho fatto ho preferito saldare la parte che si era rotta anche con lo stagno con un salvatore si riesce a saldare la coppia la capocchia ovviamente questa deve essere non troppo grossa perché deve entrare in questa scanalatura qua vedete e con questo sistema si può correggere questo limite stiamo sempre a comprare cordoncini tra l'altro che si vendono completi quindi non si trova il cordoncino l'acciaio ma di reggire di comprare tutto il pezzo per questa roba fa come hanno questo punto deboli che si stacca fosse in materiale scadente con lo stagno si può saldare creare ovviamente la giusta grandezza nel caso rimane poco poco un po e si può risolvere il problema così evitiamo di spendere soldi su soldi adesso pare che va tutto abbastanza bene si può anche regolare volevo agire diversamente poi ho deciso di saldare si salda si salda bene con lo stagno prende bene ok vi saluto sono particolare che vi voglio dire perché quando io intercetto qualche cosa di utile preferisco sempre comunicarlo perché crede penso che possa essere utile